Vlahovic contro Lautaro Martínez, Juventus contro l'Inter. Sicuramente un'energia in più, questo nel modo più assoluto, è quello che vogliamo e quello che dobbiamo sentire. La carica dei nostri tifosi deve darci quell'entusiasmo, quella voglia di giocare la partita al massimo le nostre possibilità. E' una cosa molto positiva. E' un'energia in più. E' un'energia in più. E' una cosa molto interessante, ma è un'energia in più. E' un'energia in più, è un'energia in più. E' un'energia in più. E' un'energia in più, è un'energia in più. e questa volta c'è un'esercizio diverso! Calcio di rigore per il Napoli! Va Insigne! Musso intuisce ma non basta! Il Napoli la sblocca! Insigne! Palla in area per Politano! Politano! Il Napoli raddoppia! E c'è Niccolò Barrella! Perfectly tied run! Neat finish! González! Fiorentina strike first! Mertens! Gris Mertens! And his second! Ends up in the bottom corner! Cabral! A dagger ball to Napoli's Hawks! Cross coming in back closed! Leao! Exactly what Milan needed! An early call! The cross field pass cut through Genoa's defence! And here's Brozzavich! Stunning finish! Still penishing! Lautaro Martinez! There is the second goal! La rincorsa di Insigne! Il destro nell'angolo! Rui Patricio intuisce ma non basta! Napoli davanti! Minuto undici! Sarevram di intacco! El Sharaoui per il paretto Roma! Il recupero comincia così! Con l'1-1 giallo-rosso! Empoli di Napoli! Con Carlo Castellani! Takes something special to beat Guilhermo Vicario! That's the second goal! Liam Henderson! With 10 minutes left! Pinamonti! 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 Empoli have turned it around! Napoli are no longer going to win the Scudetto! The last time Inter won two straight league titles! Jose Mourinho was the Nerazzurri head coach! Flicked on by Lautaro Martinez! Checo for Chalonolo and now Dumfries with the pace! Dumfries in Leclerc! Just like in December! And still Brozovic! He went nearly a year in Serie A without scoring! If their win at Juventus was their eureka moment, tonight Inter will finally get their epiphany. Arnautovic waits in the box, Barrow mints it in, Arnautovic! It's the former Inter player on target! Bologna's first effort on goal! Oh my word! Sansone will tap it in! Andre Radul, the standing keeper, has had a howler! And has that cast into the Scudetto!